martedì si giocherà salernitana contro juventus e massimiliano allegri ai microfoni dopo juventus lazio che la juventus ha vinto per 1 a 0 con la quale si è qualificata di diritto alle semifinali di coppa italia contro l'inter ha detto andiamo a salerno a giocarci uno scontro diretto allora ragazzi ovviamente ieri sera abbiamo parlato della partita ovviamente nel pomeriggio parleremo ancora della partita faremo le pagelle dei calciatori però volevo commentare un attimo questa frase di massimiliano allegri che va ad infilarsi in un altro discorso del quale non avevo parlato nella giornata di ieri ma che credo che sia doveroso trattare intanto rispondo a tante persone che mi hanno detto ti ho comunque visto scarico nel post partita ma cos'è successo e ragazzi sono scarico sono scarico per forza di cose perché questa situazione devo dirvi la verità mi toglie l'energia mi toglie l'energia di godermi veramente appieno una serata di calcio e poi la partita della juve non mi ha fatto piacere non mi è piaciuta credo che la juve come dicevo abbia meritato di vincere ma non ho visto una prestazione di livello visto una prestazione solida sicura convincente in fase difensiva ma che mi ha veramente lasciato un po da mare in bocca nella fase offensiva e il fatto che la juventus poi sia andata a concludere veramente poche volte verso lo specchio della porta della lastio mi conferma un po questa tendenza quindi mi sarebbe piaciuto vedere qualcosina di più lato campo quelle quelle volte che abbiamo la possibilità di giocare anche competizioni che non sono tra virgolette inquinate da tutto quello che sta accadendo allegretto una verità perché la juventus sto guardando la classifica al tredicesimo posto con 23 punti la salernitana al quattordicesimo posto con 21 punti la salernitana viene da da un momento un po strano no sappiamo tutti quello che è successo anche lato allenatore la juventus viene da un momento ancora più strano ma perché voglio entrare nel discorso oggi perché ricorderete che post monza vi disse ragazzi allegri sta facendo uno lì mediatico perché dire che la juventus deve lottare per salvarsi è qualcosa di molto pesante da parte della notte della juventus il giorno dopo tra l'altro era venute fuori alcune voci che volevano la juventus infastidita per queste dichiarazioni di massimiliano allegri dichiarazioni che sono state riportate nuovamente al termine della gara di cup italia quindi viene da dire che ovviamente non si è fondata questa voce che vuole la juventus arrabbiata per la frase di allegri post post monza perché dicevo lì mediatico perché poi non si torna più indietro nel senso che i calciatori vadano a prendere un input e io mi aspettavo una squadra che potesse veramente distruggersi dopo delle frasi del genere cosa che non è avvenuta anzi mi è sembrato di vedere un eventus molto più distrutta a livello di motivazioni contro il monza ora potrebbe essere anche banalmente che la coppa italia non è il campionato e quindi i giocatori non si sentono tra virgolette dirubati dei punti che hanno conquistato comunque sul campo e quindi in coppa italia ho un certo tipo di atteggiamento un mood differente e invece in campionato ne un altro che va anche a incastrarsi un po con la frase che aveva detto allegri in anticipo no nella nella vigilia della conferenza di vigilia di coppa italia dove disse daremo il massimo in campionato quella pausa mi fa un po preoccupato la juventus è riuscita a superare l'ostacolo lazio non me l'aspettavo e quindi mi porto a casa ovviamente la semifinale contro l'inter nonostante una prestazione che non mi ha incantato e quindi vediamo che cosa succede alla juventus in serie a per un motivo nella giornata di ieri hanno iniziato a girare alcune voci che sempre voci sono anche prima parlavamo di voci legate alla juventus contenta non contenta delle parole di allegri non ci sono conferme ufficiali però si sta muovendo qualcosa e ci sono appunto delle voci e cioè che la juventus potrebbero poi andare a revocare i 15 punti di ripenalizzazione ma allo stesso tempo assegnarne almeno almeno altri 20 per la manovra stipendi alcune domande perché allegri è andato a dire quelle parole post monza e perché le ripetute oggi post lazio due motivi uno ha visto che non funzionava l'altra strategia di comunicazione dove aveva cercato di convincere giocatori che comunque 38 punti erano stati fatti e probabilmente ha visto un calo di attenzione in concentrazione negli allenamenti nella partita che non gli è piaciuto due perché magari juventus si aspetta un'altra penalizzazione proprio lato stipendi sappiamo che ci sarà un nuovo procedimento sappiamo che ci sarà un nuovo una nuova esposizione vedremo se la juventus sarà innocente o verrà accusata di altre cose di altri illeciti io mi sono già espresso su tutte e due le posizioni da una parte mi aspetto che juventus possa ricevere indietro i 15 punti legate alle plus valenze dall'altra mi aspetto una penalizzazione molto importante invece lato stipendi quindi non mi meraviglierebbe questa situazione di vederla juventus con 15 punti in più quindi la cancellazione della penalizzazione assegnata per le plus valenze per poi venire punita nuovamente in maniera più importante da 20 punti forse anche qualcosa di più proprio per la questione stipendi perché per la questione stipendi sembra abbastanza evidente che ci sia stato qualcosa di incastrato male e ovviamente lì sì che c'è una norma che va a punire diversamente dalla normativa legata alle plus valenze anche se so per certo che la juventus non è stata punita per le plus valenze abbiamo già affrontato mille volte questo discorso però credo che juve possa far valere la propria parola all'interno del ricorso al coni il punto il problema è quando poi vanno a incastrarsi queste due cose dal punto di vista temporale perché la pena deve essere afflittiva e afflittiva vuol dire tutto o niente perché poi a seconda di quella che sarà la classifica della juventus in quel momento potranno chiedere x punti di penalizzazione oggi ne chiedono 20 è banale fare la juventus ne ha 23 meno 20 juventus andrebbe a 3 e caro il mio scontro diretto con la salernitana sarebbe una partita da vincere a tutti i costi per forza di cose per cercare di rimanere in serie a perché la cremonese ultima in questo momento ha 8 punti la samdoria penultima 9 punti della sverona terzo ultimo a 13 punti è la squadra più vicina poi alla salvezza e lo spezia con 18 punti quindi capite bene che se la salernitana ne ha 21 è uno scontro diretto non scontro diretto è una cosa da vincere punto stop non se ne parla perché poi arriveranno ovviamente le partite più difficili è ovvio che si andrebbe a ragionare su una penalizzazione di 35 punti 15 per plus valenze e almeno 20 per gli stipendi potrebbe pure essere annullata tutta la classifica della juventus quindi juventus che si ritrova a 0 da 20 a 23 credo che cambi veramente poco nel senso che se decidono di andarci con la mano pesante già 20 sono tanti 23 quasi la stessa cosa ma proprio per il discorso che non c'è una vera propria tabella di riferimento fai il determinato illecito vai a compiere determinata manovra e quindi andiamo a punirti a seconda della classifica ti togliamo i punti che riteniamo opportuni a seconda del momento per quello che vi dicevo dipenderà anche molto dalla cronologia juventus presenterà il ricorso e il ricorso sarà accettato o rifiutato nel giro di un mese quindi probabilmente juventus potrebbe ritrovarsi magicamente con in questo momento 23 più 15 quindi 38 punti in classifica ritornando verso le zone occupate da Lazio, Inter, Atalanta, Milan, Roma insomma la parte alta della classifica che si gioca l'accesso tra Champions League ed Europa League con il Napoli che ormai sta volando via ed è sempre più ufficiosamente campione d'Italia non me ne vogliano gli amici napoletani ma penso che questo campionato sia abbastanza complicato da perdere per la squadra allenata da Spalletti e quindi le Juventus potrebbe poi ritrovarsi ai piani alti allora probabilmente in quel caso secondo me 20 punti di penalizzazione per gli stipendi sarebbero pure pochi considerato che ne sono stati chiesti 15 per dare una pena afflittiva per le plus valenze che sempre secondo la mia lettura è una situazione più serena rispetto a quella che potrebbe materializzarsi per gli stipendi quindi dipenderà molto anche da questa cosa se il ricorso della Juventus verrà accolto mi aspetto forse anche qualcosa di più rispetto ai 20 punti se il ricorso della Juventus invece verrà rifiutato 20 punti sarebbe una stangata micidiale perché ovviamente la Juventus si ritroverebbe in una posizione di classifica molto delicata e quella sarebbe una pena più che afflittiva probabilmente distruttiva nei confronti della Juventus che si ritroverebbe a dover fare un campionato di rincorsa per salvarsi sul campo che è un po' la mia paura ve l'ho già detto qualche giorno fa nei video è ovvio che poi dipende quando anche sarà presentata questa nuova udienza questa sentenza legata agli stipendi perché sappiamo che si chiedono alcuni giorni di proroga vediamo quanti ne saranno concessi e quando effettivamente verrà fissata questa udienza insomma il destino della Juventus nelle prossime settimane, nei prossimi mesi è tutto tranne che roseo e il tifoso della Juventus deve per forza di cose aggrapparsi appunto alla Coppa Italia e all'Europa League se vuole cercare di sognare di portarsi a casa qualcosa lato Serie A è strano, è difficile perché a partire con la Salernitana può diventare la partita più importante della stagione così come una partita completamente inutile a seconda di come poi andrà il ricorso che secondo me, secondo il mio modo di vedere, è un'altra delle follie che c'è stata nel cercare di dare una pena a campionato in corso piuttosto che a campionato finito vediamo cosa succede concludo dicendo che il regolamento sportivo dice che le penalizzazioni potrebbero essere scontate anche nella stagione successiva quindi vediamo se effettivamente la Juventus se ne andrà a scontare oggi oppure nella prossima secondo anche di quando verrà emessa questa nuova sentenza quindi le parole di Allegri oggi sono sia disturbanti perché sentirsi dire che Salernitana e Juventus sarà uno scontro diretto il tifoso della Juve non lo può lasciare tranquillo sia estremamente veritiere e forse anche caute in attesa di un nuovo verdetto dipende tutto da come poi recepiscono i giocatori perché secondo me queste dichiarazioni possono influire in bene o in male nella mente dei calciatori vediamo come l'approcciano questa partita perché sicuramente la risposta che hanno dato loro in primis sul campo è stata decisamente diversa rispetto a quella di Monza ovviamente parlo per la Coppa Italia ripeto secondo me perché sono competizioni differenti la prova del 9 probabilmente la avremo davvero a Salerno martedì a Salerno martedì